buonasera a tutti e benvenuti alla night session di martedì 26 settembre sono 23 e 04 e cosa possiamo raccontarci questa sera sul prezzo e sull'andamento di bitcoin con l'analisi evoluta possiamo raccontarci che la nostra media mobile ci ha fatto da resistenza la media mobile è in rosso infatti tutte le volte che è stata toccata ci ha dato la possibilità di ragionare di short anche soltanto di brevi periodi e dato che abbiamo lato indice una scomposizione con un raccordo qui avremo un 23 barre ma senza la conferma dello swing è complicato quando c'è questa lateralità per cui rimango con la mia idea la cosa più semplice da fare questa sera è iniziare a mettere un bell'allarme qui sotto a 26.129 dollari sarebbe interessante se si andasse in violazione dopo la tredicesima barra e siamo soltanto a 8 in questo caso ragioneremo di uno short perché per il fatto che da qui a qui abbiamo avuto 36 barre arrivando fino a qui siamo a 44 se proprio questa 44esima non andasse sotto questo minimo se anche la 45esima eviterà di farlo se proveranno ritornare su questi massimi noi ragioneremo effettivamente di uno short non ho avuto tempo per ricontrollare la centratura giornaliera di bitcoin per cui non vi propongo nulla racconto soltanto che cosa siamo pronti a fare se avremo ancora qualche candela che resisterà appunto sopra questo massimo e se torneremo eventualmente sopra vicino al livello di questa media mobile ok vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata arrivederci